eccoci qua marvin tour qua in romagna sono in compagnia del contadino di roveretto luca ormai anche lui famoso nel marvin tour e luca un contadino appunto che coltiva vigneti però la passione così del giro a ferri vecchi qua si è lanciato così nel marvin tour eccoci qua ragazzi appassionati di vecchi trattori questo abbiamo detto che è un landini giusto luca ecco qua non ti piacciono questi trattori mastodontici po troppo per la tua campagna cosa dici luca tanti feri vecchi tanti feri vecchi qua questo qua un landini chiaramente sarà arrivato allo diciamo vedendolo così un po allo strema e poi ragazzi vi faccio vedere qua guardate qua sono in compagnia del piccolo alex ti piace questo tour o no ok cos'è cos'è che mi presenti qua questo è un masi bravissimo ma non era ancora nella vita massimo per cui un ferguson questo per cui di che anno è questo primi anni cinquanta anni cinquanta questo qui motore di questo il trattore qui facevano sì il modello del modello benzina e il modello di questo è il motore pericolo ecco qua cosa ci dici luca qua è dici che anche questo ormai cotto stracotto ecco qua è fatto cadere un po di lucine però va bene lo stesso eccoci qua cari amici appassionati qua di vecchi trattori anche questo qua non interessa a nessuno ai collezionisti io interessa di più modello petrolio benzina ecco qua anche questo angolino messo in saccoccia andiamo avanti luca con il tour dei feri vecchi ma lì alex fai un saluto ma lì cosa diciamo dici tutti 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 cari amici ma gli appassionati di cosa di macchine trattori o camion trattori bravo arrugginiti spettacolo ciao a tutti alla prossima viva i vecchi trattori e a tutti gli appassionati che seguono il canale del marvin artigianale ma insomma fatto di impegno ragazzi spettacolo ciao a tutti saluto antonio da salerno appassionato di trattori e diego d'autona spettacolo ciao a tutti